L'Associazione Nazionale di Volontariato, dedicata ai beni culturali a Usonia, ha organizzato l'incontro I beni culturali della Locride, monitoraggio e controllo, in occasione del quale ha presentato quella che per un po' di tempo sarà l'unica e anche la prima sede punto di riferimento dell'Associazione in Calabria, ovvero l'hotel Presidente di Siderno. Il Presidente dell'Associazione Usonia, Rocco Sergi, è intervenuto ai nostri microfoni affermando che l'esigenza di aprire una sede calabrese sia nata non solo per il bisogno di parlare di beni culturali e del loro controllo, ma anche perché la maggior parte degli associati toscani sono di origine calabrese e questo ha fatto scattare la voglia di arrivare fin nel nostro territorio. Allora, l'incontro che abbiamo organizzato oggi qui a Siderno è l'inaugurazione del centro studio Usonia qui in Calabria. È la prima sede che apriamo qui in Calabria. Noi come attività ci occupiamo di beni culturali a livello nazionale, in particolar modo in Toscana dove siamo nati. È un'associazione di volontariato culturale che si occupa nello specifico della valorizzazione, promozione e tutela dei beni culturali. A livello nazionale, in particolar modo della regione Calabria, visto che la maggior parte dei nostri associati sono di origini calabresi. Abbiamo deciso, dopo due anni che siamo nati, di inaugurare una sede qui in Calabria, visto che già facciamo delle attività in Toscana legate alla Calabria, quindi con riferimenti al territorio calabrese. In particolar modo abbiamo deciso, per operare ancora più specificatamente sul territorio, di inaugurare una sede sul territorio. Abbiamo volutamente iniziato dalla Locride perché quasi il 70% dei nostri associati ha origini di questa provincia. L'hotel President, fortunatamente, ci ha concesso la possibilità di utilizzare la sua struttura come nostra sede calabrese e per il momento opereremo esclusivamente in questa sede. In futuro cercheremo di inaugurare altre sedi, una per provincia, per dare la possibilità un po' a tutti i calabresi di usufruire delle nostre attività e di collaborare insieme a noi a sviluppare il nostro senso di tutela per i beni culturali. Mi auguro che il territorio calabrese e in particolar modo gli abitanti del territorio rispongano positivamente a queste iniziative e possano avvicinarsi alle nostre attività. Voglio prima di chiudere comunicare il nostro sito dove ci sono scritte tutte le informazioni riguardanti il nostro centro che è www.centrostudiausonia.it Il dibattito durante l'incontro è stato tenuto da diversi professori e professionisti del settore tra cui Antonello Porco, docente universitario, che ha rilasciato un'intervista. L'incontro di oggi è finalizzato principalmente all'inaugurazione di questa nuova sede dell'Associazione Ausonia. In pratica Ausonia vuole con la giornata porre l'attenzione su quella che è la questione del controllo dei beni culturali. Noi intendiamo con gli interventi in scaletta dare un contributo di tipo conoscitivo su quelle che sono le attività principali per il controllo dei beni culturali e infatti nell'arco della giornata ci sarà una prima dissertazione che sarà di carattere generale quindi con una panoramica sui controlli dedicati sia alla muratura sia alle strutture in legno dopodiché ci saranno due interventi specifici che entreranno nel merito del controllo di carattere materico quindi il legno e un secondo intervento invece che sarà di presentazione di una tecnica innovativa basata appunto su acquisizione di tipo dinamico.